buonasera a tutti e benvenuti nuovamente sul canale dello spolab oggi parliamo di come recuperare dei vecchi divani o poltrone di colore chiaro avana celeste chiaro colori chiari che purtroppo oramai sono macchiati con degli aloni eccetera eccetera e volete buttare perché non sono più presentabili però come possiamo reciclarli lo vedremo dopo la sigla vi ricordo però che questo video è in modalità adulti per un semplice motivo perché i bambini non possono vedere da soli questo video è bene che siano accompagnati dai genitori ma non perché chissà cosa c'è è per non rovinare i divani buoni di casa queste qui sono delle poltrone donate che erano per andare in discarica ma noi le recicliamo come facciamo di vincere dai bambini adesso con i colori con le mani faranno quello che vogliono e trasformeremo queste poltrone in poltrone d'artista però siccome parliamo di bambini da questo momento in poi passiamo in modalità cartone animato ciao ciao Sposto, sposto, sposto. Sposto, sposto. Sposto, sposto. Sposto, sposto. Sposto, sposto. Sposto, sposto. Sposto. Sposto, sposto.